La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per l'ufficializzazione definitiva della candidatura di Gianni Chiodi a presidente della regione per il centrodestra. A dire il vero Forza Italia già da tempo aveva sciolto il dubbio restava ancora il nuovo centrodestra e qualche alleato ma nelle ultime ore la situazione si è sbloccata e tra mercoledì e giovedì prossimi dovrebbe arrivare l'annuncio ufficiale. Il presidente uscente comunque non lascia trasparire nessun dubbio sulla vicenda. No non ne so niente l'ufficializzazione mi sembra che sia già avvenuta un mese fa con una nota del presidente Berlusconi poi c'è tutto questo pur parler ma io credo che l'unica cosa vera che c'è in questo momento è che io sarò il presidente della regione Abruzzo sicuramente fino al momento in cui non inizia la campagna elettorale in quel momento sarà un candidato per adesso sono il presidente intendo fare il presidente fino all'ultimo giorno per lavorare nell'interesse degli abruzzesi non lavorare nell'interesse della mia campagna elettorale.